Benvenuto benvenuta in questo video in cui parliamo di rigidità e tensione muscolare quindi se hai mai sentito un senso di rigidità o tensione muscolare del tuo corpo in diversi movimenti in diverse situazioni questo video ti sarà molto utile perché andremo a vedere le tre cause principali di rigidità e tensione per ogni causa andremo a vedere qual è la soluzione migliore quindi che cosa fare in termini sia teorici sia pratici perché alla fine del video vedremo una serie di esercizi per poter fare tutti i giorni per andare almeno a iniziare a combattere questo senso di rigidità e tensione ti consiglio di guardare il video fino alla fine sia per capire bene la parte teorica perché è molto importante per la costanza e anche per applicarsi il sapere il perché il nostro cervello funziona molto bene quando sa perché sta facendo una determinata cosa quindi capire il perché ti aiuterà anche a seguire con più costanza gli esercizi questa è una delle cose che insegniamo sempre all'interno dei nostri video corsi proprio per dare queste informazioni ai nostri clienti che poi gli aiutano ad essere più costanti a seguire più esercizi e in battuta finale ad avere più risultati partiamo subito con un concetto importante molto breve che è rigidità e tensione non sono cause di un problema ma sono sintomi di un problema ok le cause sono quelle che vedremo adesso e i sintomi di queste cause sono la rigidità e la tensione quindi la rigidità e la tensione sono un senso soggettivo non è misurabile con un macchinario o con un esame o con qualche cosa ok anche il fatto di fare un test cioè di piegarsi in avanti e non poter toccare le punta dei piedi e il fatto che tu non tocchi per terra le punte dei piedi non è una misurazione oggettiva di rigidità può essere una misurazione dell'arco di movimento ok dell'escursione articolare di quanto si muove la tua schiena ma la rigidità la senti o meno infatti ci sono pazienti vedo tutti i giorni decine di pazienti e ovviamente ogni giorno che faccio tutti i vari test ai pazienti ci sono persone che sono rigidissime che non riescono neanche ad arrivare alle ginocchia quando si flettono in avanti non mi indicano non mi dicono mi sento rigido mi dicono sì non ci vado più ma sto bene non ho nessun problema e persone che magari vanno ad appoggiare il palmo per terra invece mi dicono che loro si sentono molto rigide molto in tensione ok e può essere che tu ti ritrovi in una di queste due situazioni quindi queste due non sono cause sono sintomi la prima causa di rigidità e tensione muscolare è l'età che non è l'età e basta ma è l'età perché con l'età quello che succede è che aumenta l'infiammazione sistemica l'infiammazione cronica ok gli inglesi hanno inventato anche un termine che chiamano inflammaging che sarebbe a dire l'infiammazione legata all'invecchiamento quindi infiammazione più invecchiamento hanno fatto inflammaging in italiano potremmo fare invecchiazione ok totalmente sbagliato però per rendere l'idea una via di mezzo tra invecchiamento e l'infiammazione quindi infiammazione sistemica cronica azione cronica ok per rendere bene quest'idea per capire bene ti basti pensare a una volta quando hai avuto l'influenza i primi giorni di influenza infatti ti senti a parte il fatto di sentirsi questo senso di spossatezza e di mancanza di forze si sente anche rigidità e tensione muscolare ok è capitato a tutti di avere l'influenza e di muoversi a ralentatore di sentire questo senso proprio di essere più legati del solito e così via bene questo è per via dell'infiammazione l'infiammazione infatti aumenta il senso di rigidità e di tensione quella è l'infiammazione acuta o l'influenza quindi lo sento per qualche giorno l'infiammazione cronica quindi poi l'artrosi tutte le cose che arrivano con l'età vanno praticamente ad aumentare questo senso di rigidità e di tensione muscolare quindi l'infiammazione aumenta questi sintomi punto numero due questo uno sembra come un due ma invece un uno punto numero due importantissimo è lo stato mentale lo stato mentale ok ci sono centinaia di studi che provano che il nostro stato mentale influenza lo stato muscolare e viceversa lo stato muscolare è in grado di influenzare il nostro stato mentale la prova che puoi fare che dicono anche in alcuni di questi studi è in una giornata vai davanti allo specchio quando è una giornata neutra non sei ne arrabbiata ne arrabbiato sei tranquillo normale ok nella media vai davanti allo specchio inizia a fare delle facce molto incattivite molto arrabbiate lo fai per un paio di minuti inizierai a sentirti questa sorta di rabbia che sale senza motivo ok ti sentirai più teso più 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 arrabbiato proprio perché senza motivo semplicemente perché i tuoi muscoli hanno mandato un segnale al cervello che in questo momento siamo arrabbiati ok stiamo esprimendo sensazione di rabbia lo stesso vale quando ad esempio nella vita abbiamo un momento stressato abbiamo problematiche di lavoro problematiche della vita privata come tutti noi insomma e magari abbiamo anche una tendenza alla sommatizzazione dei problemi a livello muscolare non poche persone mi dicono che sentono la schiena i trapezzi le spalle magari la bassa schiena più rigida quando attraversano un periodo con più tensione con più problematiche ok quindi la sommatizzazione e l'aumento della rigidità e della tensione muscolare per via dello stato mentale non è una cosa fantascientifica è una cosa vera studiata scientificamente e soprattutto ci sono studi che fanno il contrario ovvero una persona che magari in un momento può essere in un certo mood in un certo stato mentale fanno quelle che si chiamano le power pose quindi aprire le braccia fare praticamente i muscoli davanti allo specchio fare dei bei sorrisi fare delle belle respirazioni quindi andare ad esprimere uno stato di apertura uno stato di felicità diminuisce la tensione e aumenta anche l'umore migliora lo stato d'umore di conseguenza sappiamo che mente e muscoli si influenzano a vicenda ok quindi facciamo mente anzi facciamo così mente muscoli freccina di qua e freccina di qua si influenzano a vicenda quindi sappiamo che l'età infiammazione cronica aumenta contrattura e rigidità tensione e rigidità stato mentale fa la stessa cosa quindi essere più in ansia essere più in tensione va a caricare i nostri muscoli e il terzo punto ciliegino sulla torta la cosa più strana è l'iper mobilità iper mobilità 80% di queste persone sentono hanno un aumento dei sintomi l'80% delle persone che soffrono di iper mobilità ovvero che hanno più mobilità del dovuto quindi sono le ultime persone a dover essere rigide hanno più rigidità e più tensione muscolare ok quindi il fatto che tu appoggi il palmo per terra come ho detto prima non è assolutamente indicativo del tuo stato di rigidità di tensione muscolare proprio perché non avrebbe senso infatti questo è un'ulteriore conferma di quanto abbiamo detto prima che la rigidità e la tensione sono una sensazione soggettiva legata a diverse problematiche legata a diverse cose stato mentale età iper mobilità e abbiamo adesso la cosa che ho comune a tutte e tre è la riduzione riduzione della capacità muscolare ok questa cosa qui accomuna tutte e tre quindi nessuno vieta che ci sia un misto di queste cose magari una persona che ha un aumento dell'infiammazione cronica non per forza legato all'età ok l'età è uno dei fattori che contribuisce ad aumentarlo però anche le persone giovani le persone più giovani e molto giovani che soffrono magari di iper mobilità io ne ho tanti di pazienti anche di 18 20 25 anni che soffrono di rigidità e di tensione muscolare non hanno un problema d'età ma hanno principalmente un problema di stato mentale quindi somatizzazione di un certo problema è iper mobilità l'iper mobilità cosa causa causa che nonostante ci sia un libero movimento dell'articolazione ci sia un senso di rigidità ma di solito si nota appunto che c'è un aumento della tensione c'è una riduzione della capacità del sistema muscolare quindi la cosa che dobbiamo andare a fare per migliorare tutte e tre queste situazioni quindi per combattere l'infiammazione cronica per migliorare il nostro stato mentale per migliorare il nostro umore le energie per migliorare anche ovviamente a tutta finale quello per cui abbiamo fatto tutto il video la rigidità e la tensione muscolare è quella di migliorare il nostro stato muscolare lo stato di allenamento e di capacità dei nostri muscoli questa cosa lo possiamo fare tranquillamente con degli esercizi sia di stretching sia di respirazione sia di rinforzo ci deve essere una combinazione di queste cose lo stretching diminuisce lo stato di tensione momentaneamente gli esercizi di rinforzo aumentano la capacità muscolare e permettono al nostro sistema nervoso al nostro sistema muscolare di sentirsi meglio di essere effettivamente più forte di combattere l'infiammazione e gli esercizi di respirazione ci aiutano a essere più rilassati attivare il nostro sistema nervoso autonomo di rest and digest quindi quello che ci deve far riposare quello che ci deve fare rilassare e tutto questo ci aiuta quindi a migliorare il nostro stato di rigidità e tensione muscolare ok adesso passiamo subito agli esercizi ti invito comunque se vuoi avere altre informazioni altri video seguire delle routine passo a passo abbiamo fatto proprio un video corso che si chiama manuale anti rigidità è un video corso completo che contiene esercizi di tutti i tipi per 12 settimane che ti aiuta a vincere la rigidità muscolare e diminuire la tensione puoi fare la prova gratuita di questo video corso cliccando il link nel primo commento o sotto nella descrizione del video e ovviamente se la prova ti piace se ti trovi bene con la nostra modalità come tanti altri nostri pazienti puoi acquistare il percorso completo e iniziare a lavorare con il nostro metodo ora passiamo subito agli esercizi eccoci qua con la prima parte degli esercizi prima di partire andiamo a fare un piccolo test ci mettiamo ovviamente con i piedi uniti, ginocchia tese ad andare a toccare per terra ok quindi andiamo nella posizione più bassa possibile e misuriamo quindi arrivo alle ginocchia, arrivo a metatibia, alla caviglia, alla punta del piede, appoggio il palmo e così via fatto questo test te lo segni perché alla fine lo andremo a rifare e vedrai diverse situazioni allora il primo esercizio è l'esercizio di stretching del muscolo ileopsoas ci mettiamo in ginocchio, la gamba che lavora è la gamba dietro, in questo caso la mia gamba sinistra facciamo una bella apertura in avanti, schiena più dritta possibile vado indietro, porto indietro la schiena e sento tirare nella parte anteriore mantengo per 30 secondi intanto che faccio delle belle respirazioni se ho problemi di equilibrio mi posso appoggiare un pochino però mantengo la posizione se ho fastidio al ginocchio posso mettere un cuscino sotto il ginocchio che rimane appoggiato quindi mi raccomando tutti questi accorgimenti come diciamo sempre in tutti i video ancora un attimo 3, 2, 1 e ritorno gradualmente faccio cambio gamba quindi adesso la gamba estrae indietro o la sinistra in base a quella con la quale sei partita facciamo il bel passo lungo vado avanti, tiro bene la schiena indietro mantengo per 30 secondi ovviamente più affondo in avanti e più mi aumenta la tensione a livello anteriore dell'inguine della coscia della gamba destra in questo caso 3, 2, 1 e ritorno dopodiché ci mettiamo sdraiati a pancia in su ci mettiamo a pancia in su e partiamo con la gamba sinistra allora la gamba destra la teniamo piegata qui la gamba sinistra la prendiamo con le mani sotto il ginocchio piede quindi dorsalmente flesso in questo modo quindi lo tiro piede a martello come si dice e vado a portare la gamba fino in fondo più tesa che posso faccio 10 ripetizioni e all'ultima la mantengo pronti via 1 2 3 4 5 5 cerco sempre di mantenere il piede a martello e di arrivare fino 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 in fondo 6 7 8 9 e respiro e al decimo mantengo 30 secondi adesso tengo solo una mano perché devo guardare i secondi così siamo belli precisi non devi mollare la posizione devi mantenere bene la massima posizione possibile 8 7 6 5 4 3 2 1 e ritorno lascio giù la gamba sinistra prendo la gamba destra uguale faccio 10 ripetizioni e poi mantengo all'ultima pronti e via 1 2 3 4 5 6 come ho detto prima piede a martello e vado fino 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 in fondo 7 8 9 9 10 e mantengo su 30 secondi 3 2 1 e ritorno molto bene molto bene molto bene l'ultimo esercizio senza perdere il microfono che andiamo a fare è un esercizio di respirazione con il mantenimento di una postura ci mettiamo seduti con la schiena al muro mantenendo la schiena più possibile appoggiata quindi se fosse possibile avere tutta la schiena appoggiata è ovvio che non sarà facilissimo quindi se sei un po rigido magari o rigida ti si staccherà la lombare non riuscirai ad appoggiare la testa non ti preoccupare che sia ragionevolmente appoggiata al muro entro il tuo limite poi ovviamente man mano che farai questi esercizi migliorerai da questa posizione tiro sulle caviglie schiaccio le ginocchia e vado a fare delle belle respirazioni diaframmatiche se fosse possibile in alternativa anche solo delle belle respirazioni prendendo l'aria dal naso buttandola fuori dalla bocca prendo l'aria dal naso e quando butto fuori dalla bocca cerco di rilassare tutto 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 tranne i piedi che devono rimanere su ancora due e lascio molto bene e adesso andiamo a fare una bella cosa andiamo a rifare il test e ti ritroverai in una di queste due situazioni nella prima situazione sentirai e vedrai che vai leggermente più giù rispetto a cinque minuti fa nella seconda situazione invece nonostante tu non senta un miglioramento nell'arco del movimento sentirai che puoi farlo diverse volte che la flessione del busto quindi la flesso estensione sarà leggermente più agevole sarà un pochino più semplice ti peserà meno come movimento non ti sentirai così rigido o così rigida ci sentirai leggermente meglio ok proviamo subito così vedo anch'io se sono migliorato nonostante modestamente parlando sia abbastanza bravo diciamo quindi vado e vado a toccare giù ok e ritorno lo rifaccio e cerco di capire appunto in quale di queste due situazioni mi ritrovo quindi miglioramento del movimento come fluidità e miglioramento della flessione diciamo quindi arrivo più in basso o solo un miglioramento della sensazione di rigidità senza che ci sia un effettivo miglioramento del dell'escursione articolare non vado più giù mi sento meglio in ogni caso questa cosa ci fa capire che lavorando sulla respirazione anche pochi minuti al giorno ci aiuta comunque a sentirsi meglio a sentirsi meno rigidi più sciolti con meno tensione è molto importante è molto importante fare anche degli esercizi di rinforzo che potrai trovare in altri nostri video che potrai trovare all'interno della guida della prova gratuita del video corso manuale antirigidità che ti ricordo di nuovo puoi trovare nel primo link nel primo commento qua in basso ti iscrivi e ovviamente puoi fare la prova gratuita del corso ti ringrazio tanto per l'attenzione e per avermi seguito fino alla fine del video ti ricordo ancora di iscriverti al nostro canale e ovviamente di scaricare la guida gratuita del manuale antirigidità grazie ancora e ci vediamo alla prossima grazie